Io ho giocato all'Inter insieme a Ragatomo, per nomi conosco Kamada, Honda e tanti giocatori che sono stati sulle bocche di un po' di persone in Italia. È stata sicuramente una delle stagioni più importanti e più belle fin qui della mia carriera. Penso che abbiamo vinto due trofei come la Coppa Italia della Supercoppa e abbiamo raggiunto un risultato importantissimo in Champions League, anche se abbiamo perso la finale, però l'importante era rendere orgogliosi la società e i tifosi e penso che questo tra i risultati sia stata la cosa più importante. Sicuramente abbiamo perso tanti giocatori di esperienza, giocatori forti, però allo stesso tempo abbiamo preso ragazzi più giovani di grande prospettiva che hanno giocato già partiti importanti, con Brattese, Duram, Visek e poi come giocatori di esperienza che abbiamo fatto a finale di Champions e tutto, abbiamo preso quadrato. Sicuramente Paris Saint Germain è una squadra europea, una squadra forte, piena di campioni. La Nass è uguale, ha comprato tanti giocatori dall'Europa e poi ci gioca il nostro ex compagno di squadra, Massimo Brodic. Sicuramente di seguirci nei nostri amichevoli qui contro la Nass e il Paris Saint Germain. Sicuramente c'è una grande possibilità di venire anche San Sierro a vedere le vostre partite. Se vuoi risentire qualcosa, la differenza, scorso il calcio che poi incresca. in ogni parte del mondo e poi in ogni parte del mondo e sicuramente ci possiamo confrontare con quest'anno. questo è un passo alla prova, cosa che comunque... no, Pito ha uno stilice con molti però, perché tu hai un sinistro molto forte, quindi potrei spiegare molto bene lui. Pito spiegò per la sua qualità, è stato un giocatore importante per l'Inter e sicuramente ci sono tanti giocatori al Giappone. è stato un giocatore al Giappone. È stato un giocatore di prossima stagione intera, assolutamente importante. Molto, molto amica. Per quattro e quattro e quattro e quattro e quattro e quattro abbiamo fatto benissimo. Comunque siamo chiamati a fare meglio, a dare... Non mi chiedere la Littoria, a dare quella continuità che... che abbiamo spesso ci ha mancata, però abbiamo avuto un percorso incredibile che non sono paragonale al Champions League che ci ha portato qua a giocare in finale. E sicuramente dobbiamo partire quest'anno da lì, da quella più spiegazione. Da quella più spiegazione, da quella più spiegazione, dalla partita set. Quindi, conosciamo la nostra spiegazione da lì per fare un'annata importante quest'anno. Ma questa stagione sicuramente vogliamo arrivare e crescere ancora a livello di squadra. Grazie mille. Grazie a voi. Puntiamo al massimo come ogni anno. Sappiamo che giocare per una squadra è un percorso importante. Sicuramente è bello potersi confrontare con una cultura diversa rispetto alla nostra, imparare cose nuove e sicuramente è bello vedere l'affetto dei tifosi anche con il dipone. Ma chiaramente è stata un'ottima stagione quella dell'anno scorso che ci ha permesso di vincere la Coppa Italia, la Supercoppa italiana e poi abbiamo fatto la finale di Champions che è stato un grandissimo successo. chiaramente l'anno scorso rispetto all'anno precedente. Abbiamo vinto due trofei come l'anno precedente ma abbiamo avuto una grandissima crescita a livello europeo perché fare la finale di Champions non capita tutti gli anni. L'Inter era la famosa finale del 2010 e era 12 anni che non faceva una finale. Quindi è un motivo di grande orgoglio. Senz'altro vorremmo riconfermarci in Europa come abbiamo fatto l'anno scorso sappiamo che sarà difficilissimo ma ci proveremo e poi abbiamo il grande obiettivo che è lo Scudetto che è un obiettivo della società. Adesso chiaramente stiamo cercando di rinforzarci, di prepararci al meglio con questa preparazione qui in Giappone e quindi abbiamo speranza per vincere lo Scudetto. Ma l'allenatore è molto molto importante, mi piace allenare però fondamentale a parere mio sono i giocatori che sono chiaramente gli attori principali. Poi io allenatore ho tante persone dello staff che mi aiutano e cerchiamo tutti i giorni di aiutare i nostri giocatori. Ma io direi che il calcio italiano sta al di là del catenaccio che è un luogo comune che si diceva tanti anni fa, il calcio italiano sta migliorando tantissimo. Abbiamo l'esempio Lampante che è l'anno scorso nelle tre competizioni internazionali, avevamo l'Inter, la Roma e la Fiorentina nelle tre finali europee, quindi il calcio italiano è in grandissima scesa. Ma per quanto riguarda l'Italia e la Serie A siamo 20 squadre e ce ne sono 10 che giocano con la difesa 4 e 10 con la difesa 3, di cui fa parte l'Inter, la difesa 3 è un modulo che mi ha dato ottime garanzie, ottime risultati nel corso della mia carriera, ma noi allenatori siamo pronti a tutto, inizialmente io i primi due anni alla Lazio giocavo con la difesa 4. E' solo un giorno che siamo qua, io non ero mai stato in Giappone, sono molto contento di essere qua perché volevo conoscere questa nazione che mi è piaciuta sempre, adesso è un giorno e mezzo che sono qua a Dosaka, mi è piaciuto molto, poi so che abbiamo tanti tifosi dell'Inter qua e poi vedere così tanta gente fuori dall'aeroporto, fuori qui dall'albergo, fuori dallo stadio è motivo di grande soddisfazione. Ma ci sono tanti giocatori giapponesi che hanno fatto bene, che stanno facendo bene, noi qua in Italia ne abbiamo avuti anche qualcuno, adesso penso a un giocatore giapponese, penso a Kamada, quel giocatore che adesso è in trattativa con tanti club, è un giocatore che ho incontrato pure io da avversario nell'entrata, è un giocatore di grande qualità. Grazie, grazie, ciao, ciao, ciao.